prestissimo su canale 5, aria paradiso, aria paradiso, aria paradiso, aria paradiso, con noi, alle franze, e poi tanti altri, ma adesso ci siamo noi, ma che cos'è aria paradiso? aria paradiso è un film bellissimo, si, ambientato in un benzinario, un autogrill, e la trama narra di due grill, due aree di servizio che si mettono in competizione perché uno deve essere chiuso, allora c'è una forte competizione, ma al finale non ve lo diciamo, questa è la grande sorpresa di aria paradiso, aria paradiso, a poco, su canale 5, con alle franze e tantissimi altri, ciao!